Vi annuncio che oggi abbiamo i primi due pazienti a Bassano, due indiani, padre e figlia, con la variante indiana. È nel territorio dell'Ulsset e Pedemontana il primo caso veneto di variante indiana del Covid, come ha annunciato il presidente Zaia. Una variante del virus che sta preoccupando e non poco, vista l'incidenza di mortalità che si sta avendo proprio in India. È il direttore generale Bramezza che spiega nello specifico di cosa si tratta. Sono padre e figlia che sono rientrati dall'India e molto scrupolosamente si sono fatti il tampone. Il tampone è stato processato allo istituto zooprofilattico e dà risultato positivo con la variante indiana. È il primo caso che abbiamo. Sono a casa, stanno bene e sono in isolamento fiduciario. Spaventa questa cosa, questa ultima variante? È facile che questo si propaghi, come è successo per quella brasiliana e per quella inglese. L'importante è che sia una variante del virus, non pericolosa, ma adesso i nostri specialisti faranno tutte le indagini del caso e speriamo che non lo sia. Perché in India ha portato in poco tempo un gran numero di decessi. Sì, non conosco bene la situazione, sono quella che leggo anche io dei giornali, ma speriamo, siamo convinti che la vaccinazione che stiamo facendo, come sta coprendo anche le altre varianti, copra anche questa.